I trucchi per trarre in inganno i cittadini sembrano essere infiniti. Questa volta le vittime di una fulminea truffa sono i titolari di un bar tabaccheria di via Colombo. Ieri pomeriggio un uomo italiano di circa 45 anni, con cappotto grigio e cappuccio sul capo, è entrato nel negozio chiedendo una ricarica di 870 euro sulla propria carta prepagata post-pay. Appena il versamento è stato effettuato, il finto cliente si è scusato dicendo di dover spostare urgentemente l'autovettura che stava intralciando il traffico e, senza dare il tempo al titolare di controbattere, si è diliguato senza saldare l'autoconto. Il tabaccaio ha immediatamente contattato la polizia postale nel tentativo di bloccare il conto corrente sul quale erano stati versati gli 870 euro, ma il truffatore era già riuscito a prelevare 610 euro. La polizia sta visionando le telecamere di sorveglianza e svolgendo le indagini del caso.